atp cincinnati i risultati di oggi alcaraz eliminato al primo turno zverev e risultati del torneo atp di cincinnati risultati del torneo atp di cincinnati l'inizio del torneo atp di cincinnati è stato deludente per carlos alcaraz il tennista spagnolo noto recentemente per le sue prestazioni impressionanti ha subito una sconfitta già al primo turno si è riportato che il suo avversario il talentuoso francese gaël monfilz ha esercitato una grande pressione sul numero uno del mondo nonostante lo spirito combattivo di alcaraz il terzo set dopo un match emozionante è andato a monfilz che ha così realizzato la sorpresa della giornata monfilz che dopo una serie di infortuni e un lungo periodo di pausa è tornato con stupore ha mostrato una prestazione straordinaria ha giocato alternando servizi precisi e colpi incredibilmente potenti il che lo ha reso un avversario temibile alcaraz da parte sua era tecnicamente preciso ma sembrava non riuscire a ritrovare la sua forma abituale di persone presenti a cincinnati erano visibilmente sorprese dall'andamento della partita poiché molti avevano scommesso su una vittoria del giovane spagnolo un'altra esibizione che ha catturato l'attenzione del pubblico è stata quella di alexander zverev il giocatore tedesco ha sconfitto il suo avversario in una partita combattuta mostrando una prestazione solida zverev che negli ultimi mesi ha lottato per riprendersi dagli infortuni sembrava concentrato e determinato ha dichiarato di voler sempre concentrarsi sulla prossima sfida e di vedere ogni incontro come un'opportunità per crescere dopo la sua esibizione di successo zverev ha parlato dell'importanza di questi match nel contesto del suo ritorno i tifosi potevano percepire che lo stile di gioco di zverev era competitivo e alla pari con i migliori giocatori del mondo la sua presenza in campo e la capacità di pensare lucidamente sotto pressione lo ponevano come possibile favorito del torneo un altro punto culminante della giornata è stata la performance del giocatore britannico andy murray murray che di recente ha dovuto affrontare problemi di infortunio ha dimostrato di saper ancora giocare a un livello elevato ecco la traduzione del testo in italiano nel suo match ha dimostrato di avere l'esperienza e la tattica necessarie per avere successo anche contro i giocatori più giovani murray era dell'opinione che le nuove sfide lo aiutassero solo a migliorare il suo gioco e ad adattarsi alle attuali condizioni in campo in generale il primo giorno del torneo atp di Cincinnati ha offerto una stimolante miscela di sorprese ritorni e match emozionanti ecco la traduzione del testo in italiano modifiche visibili nel livello di gioco e nuove dinamiche tra i giocatori rendono questo torneo un evento imprevedibile e affascinante per tutti gli appassionati di tennis i prossimi giorni promettono ancora più suspense e colpi di scena inaspettati in sintesi si può dire che il primo giorno del torneo atp di Cincinnati rappresenta un momento culminante sia per i giocatori che per gli spettatori di fans di tutto il mondo possono aspettarsi altre partite emozionanti mentre i migliori tennisti vogliono dimostrare il loro valore sul campo venerdì 16 agosto 2024